Mannaggia sei ancora bianco Lo spacchiamo tutto Aiuto Oh mamma Ciao a tutti Ciao Giada Ciao Ciao patatina Allora oggi che cosa si fa? Una caccia al tesoro Oh Mizziga Lo riferiti che non abbiamo capito niente La caccia al tesoro Si fa una caccia al tesoro Lunghissimissimissima Lunghissimissimissima Ma intanto che cos'è che hai in mano? Cos'è? Il bufetto E che cosa ci serve il bufetto? Spiega Per trovare l'indice Ah ci aiuta? Si ci aiuta Ed eccoci qua con l'indizio numero 1 Vediamo se Giada capisce che cos'è C'è una tenda C'è una scala che va giù E una tenda E giù nella sola giochi Giù nella sola giochi Andiamo Hai trovato qualcosa? Si Fa vedere Cosa hai trovato? Un love skitties Un love skitties e un altro messaggio Inizio numero 2 Ah cosa sarà? Questo è il mio armadio No E tu? È in cucina In cucina Cos'è il? Il frigo Il frigo Il frigo È figolissimo Andiamo nel frigo Che figolissimo È figolissimo Eh però Secondo me la freccia indicava nel freezer Nel freezer Dove ci sono i gelati? Vediamo ma dove si nasconderà l'indizio ah l'hai visto pensavi che era un gelato di molang indizio numero 3 wow molang ecco qua molang dai infila nella sacchettina poi questo che cosa raffigura prova a guardarlo un divano questo pezzo di divano quindi che ha tra i cuscini spostali spostali hai trovato qualcosa? mini pony è un piccolo mini pony vediamo eccolo qua si sale questo è l'indizio numero 4 c'è una scala che sale che è proprio lì? dov'è? dov'è? eccolo lì che cos'è? uno kitty è un piccolo di lost kitty sono dei cucciolini più piccolini adesso è il tuo letto quello fa vedere l'indizio che non ce l'hai fatto vedere indizio numero 5 il letto di Giada accendi la luce ecco la cameretta dove sarà? dov'è? secondo me è proprio lì dietro cos'è? un altro un altro lo so dei cameretta di papà lamba no amore quello è il cesto della biancheria che c'è nel bagno giù giù? si scende cosa c'è dentro? lo sai? lo sai che è il cattello non è proprio la sala giochi guarda meglio abbiamo trovato un altro piccolo lost kitty questi sono i cassetti della sala giù? no della sala che è il cassettone grande guarda bene guarda bene eccolo lì io sono trovata coda di mamma questo è uno fish e abbiamo trovato l'altro indizio guarda l'indizio numero 8 che cos'è? è proprio un giallo è lo zaino della? è lo zaino della? è lo zaino della? della ma? ma? è uguale allo zainetto della mamma andiamo a vedere ok ok questo io credo che sia proprio la cerniera qui davanti prova un altro piccolo lost kitty e poi c'è qualche indizio? non c'è più niente c'è l'indizio cosa ti sembra? cosa ti sembra? un letto di mamma e papà no sono le tende ecco già da dietro le tende lì no lì no e lì? trovato e abbiamo entrato un altro lost kitty sì siamo pronti per partire? sì ci sediamo allora con Giada abbiamo deciso di aprirne uno alla volta vero? mi va questo? e abbiamo pescato che cos'è? che cos'è? fammelo prima vedere è uno d'occhi d'occhi squishy aha chissà ti troveremo ahi ahi questo abbiamo trovato oh ma che cos'è? è un cagliolino è un canale squiscioso è Giada? sì c'è dentro anche qualcos'altro? vado a vedere madonna ma è un porcellino ma perché non dobbiamo trovare un porcellino allora ti sembra? allora ma io non lo so con tutti quelli che potevano trovare il porcellino dovevamo trovare ah ma una storiella scusa fa vedere che è presto con una storiella che bello stasera ce la lezziamo allora adesso abbiamo trovato il porcellino intanto Giada non ha tempo di aspettare che bello dopo ce lo faccio oh ci sono anche i giochi sì mi piace c'è anche da colorare dopo lo facciamo lo appoggiamo qua dietro ok vai secondo gioco cosa sarà? cosa uscirà? ah ok le bustine hai ragione facciamo le bustine c'è un'altra rivista poi la caglia cassette dentro la casetta c'è qualcosa abbiamo trovato ma che carino questo libro guarda degli animali la caglietta c'è un po' di cose interessanti che anche dopo la caglietta apriamolo vediamo cosa c'è dentro questa casetta chi c'è dentro? chi c'è? ma ho visto bene? è piu piu? sì piu piu ma c'è anche la vasca da bagno senti fammi vedere questa casetta dentro c'è anche i molang è dentro e poi c'è la vasca da bagno questo è il molang con piu piu e c'è anche il bagnoschiuma in mano ma è troppo carino lo mettiamo qua fammi vedere anche la casetta eccola ecco e molang che è in bagno quindi ci appoggiamo la vasca e ci giochiamo con piu piu e molang e allora non si sceglie ci ho dato l'intenzio e togliamolo via via l'intenzio dai forza scegli un mini pony adesso lo prendiamo ecco non si apri è tutta una sorpresa questo impicchino voglio vedere apriamolo lo so chi è qui ci sono i nostri c'è più molang oh che cos'è? posso vederlo? ma questo questo è uguale eh lo so però è lei è sempre lo stesso personaggio che è dentro in un gelato oltretutto ma scusa mi fai vedere cos'altro c'è dentro qua aspetta giù le managlie guarda c'è un sacco di roba questo cuoricino cos'è? cosa sarà questo cuoricino? dove andrà? si è entrato questo piccolo pony c'è anche un cuoricino non capiamo a cosa serve ecco lì e qua c'è il fogliettino ovviamente sempre spaccato da Giada lo so leggero abbiamo trovato lei diamo un altro gioco forza pesca non è valido guardare devi pescare occhi chiusi un piccolo lost kitty qua è già aperto aspetta che questo forse è un po' dura vedi cosa c'è tira fuori ah no vedi non è da scavare questa volta dopo rimettilo qua il didò o dici che dentro c'è qualcosa oh vediamo ma allora Giada ah mamma mia no facciamo così mettiamo tutto dentro non c'è niente niente di do in giro allora il didò è azzurro c'è dentro la cacola in realtà è il play do giusto oh no sappiamo già chi è io non lo voglio sapere allora dai apriamo aspetti chi è è la papà lui fa vedere allora è lui ma non c'è il fogliettino con tutti i personaggi non sappiamo neanche come si chiama eccolo qui è un golosino perché sembrano un cucchiaino e la bocca tutta sporca allora il nostro gattino l'abbiamo trovato ed è proprio lui Miss Kevus se così si pronuncia infatti l'abbiamo trovato dentro al play do azzurro eccolo qua io lo so mettalo sul copeto allora un altro mini pony eccolo qua da dire brava è uscita la casetta è diversa ma è tutta viola no ma dentro guarda c'è un altro disegno perché questa era così è già aperto è già aperto meno male ora facciamo una fatica ogni volta la tua preferita dammela in mano sembra una zucca è bellissima vedi è un tema con Halloween questa che carina ma qui hai trovato un cuoricino anche qua si vedi c'è dentro ma che cosa serve questo cuoricino fatacelo sapere noi non sappiamo cosa serve io intanto la cerco in questo fogliettino tutto scasciato ah si è qua l'ho trovata cercola qua chissà cosa tirerà fuori stavolta questa monella cos'è? un lost it is questa volta scaviamo con le dita che dici? si è bianco ancora bianco ma è possibile che lo troviamo sempre bianco noi? eccoli qua un cilieco allora queste sono la serie 1 perché poi sono uscite anche altre serie noi però abbiamo solo la serie 1 aspettate che aiuto ho deciso di scavare con le dita perché col cucchiaino ci mettavamo tantissimo vero? allora ripetiamo quello che vuole trovare Giada è quello nella scatola che si chiama lo so lo so pickers il numero 26 e questo quindi incrociamo le dita pensiamo intensamente pickers pickers questo è proprio quello che ho trovato questo questo l'ha trovato Alissa? si allora voi dovete sapere che Giada è una fan di Alissa e Silvia vero? e anche e anche le Miracolchus e delle Miracolchus assolutamente vuoi salutarla Alissa? dille ciao 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 Alissa e ciao Silvia e poi sotto ci sono gli accessori ormai abbiamo imparato più o meno come sono i lost kitty vero? ne abbiamo tre però due reti quindi ne abbiamo due e questo speriamo sia diverso io non lo voglio più trovare vai apri io l'ho già vista no vabbè ma no ragazzi ma com'è? ma vendono solo questo ma il terzo che troviamo Giada digli qualcosa è fatta basta gattino smettila di perderti non ti vogliamo più trovare oh ma che barba è il terzo che troviamo almeno gli accessori sono diversi questo è verde e poi sotto sotto in fondo in fondo che carina questa foto in fondo in fondo c'è cosa? la paperetta viola per fare il bagnetto qui c'è tutto uno spacciugamento di mio playdoh dappertutto ecco ce l'abbiamo fatta? si metti dentro qua il playdoh il playdoh davvero e infatti io volevo basta eh eccolo qua adesso ne apriremo un altro speriamo no non ce n'è un altro si ce ne sono tutti io hai pescato un altro lo skittis no eh Giada no eh no se togliamo questo ne volevo io crociamo le dita di trovare te adesso mi metto a pregare eh ma poi ce ne sono tantissimi in quello bianco voglio dire ma sempre lo stesso dobbiamo trovare tose dobbiamo anche anche allora dai impegnati con la mente a trovarne un altro eh allora apriamo tira tira forte e si apre non si è aperto io no è diverso? si oh ne abbiamo trovato un altro finalmente è un po' bruttino eh però è carino no guarda è qua in alto e si chiama allora si chiama pants eccolo qua non ci sono una copiletta anche il mano del fridò gattino di ricchino eh ma scusa e il suo adesivo niente è bello? si sei contenta? meno male almeno ne abbiamo trovato uno diverso adesso ci mancano due ecco qua ecco un altro piccolo laschitis il fridò è bianco quindi sicuramente è diverso da quello che abbiamo trovato prima è lui ma allora io non lo volevo sapere birbantella perché c'è la foto ma non me la dovevi far vedere a parte che non ho fatto in tempo a capire qual è quindi apriamo la bustina tira forte guarda che c'è un tratteggio dove puoi tirare e si apre a lo trovi? e e viola oh ma che carino questo mi piace un spacchissimo ma sembra tutto un gatto pazzo ma guarda la cosa dietro tutto sparrusciato e poi che cosa c'è su una sciarpa? una sciarpetta? allora vediamo come si chiama eccolo qui si chiama popos crinkle plum crinkle plum oddio ma sono impronunciabile ma perché? sembrerebbe che è una sciarpa ma non potrei giurarlo forse è un calzino mi sa quanto che è un calzino appiccicato eccolo qui eh sì ah è nel cesto del bucato è per questo che è il calzino appiccicato ok bellissimo niente siamo un po' tristi spiega tu perché perché è l'ultimo vero? oh no vabbè godiamocelo questo momento questo momento triste 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 questo è l'ultimo da aprire noi ne avremo aperti altri dieci vero Giada? ah prendoli dove? dove li prendiamo? l'ultimo meraviglioso lost kitty fogliettini partiti dopo la plastica questo non lo appena neanche che ce l'abbiamo qua dove sei? di che colore sarà? adesso combettiamo sarà bianco azzurro o lilla? lilla lilla? mmm speriamo mannaggia sei ancora bianco allora lo spacchiamo tutto aiuto oh mamma è volato fuori ok lo so chi è lui ma no è uguale? è un doppio? no ma non ci credo ma siamo troppo sfortunati con questi lost kitty la mamma è molto 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 arrabbiata un altro doppio cosa ridi tu? io sono arrabbiata basta doppi uffa apri quindi? quindi? io sono un po' arrabbiata un altro doppio ragazzi un altro doppio basta doppi ma allora quindi noi cosa dobbiamo fare Giada? ci vediamo al prossimo video noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al nostro canale muah a tutti ciao 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 ciao